E' pari a 117.500 euro l'incasso totale della Casa Museo Giacomo Puccini e del relativo Bookshop, un incremento crescente dal 2014 che rende possibile la chiusura in attivo del primo semestre annuale del museo. Dati incoraggianti, resi pubblici durante una conferenza stampa, dal presidente della Fondazione Puccini, il sindaco Alessandro Tambellini, e dal direttore Massimo Marsili. Sono stati 14.387 visitatori che sono saliti alla Casa Natale al 30 giugno 2016, il 20% in più rispetto all'andamento del già ottimo 2015, che a sua volta registrava un incremento del 26% di presenze rispetto al solito periodo del 2014. Il 42% dei visitatori è italiano, mentre il 57% è straniero. Incrementate anche le vendite per quanto riguarda il Bookshop, quasi raddoppiate rispetto al 2014, è in linea con il trend nazionale di circa 3,2 euro per ogni visitatore del museo. Guardi, il modello che ci eravamo prefissi di realizzare, ovvero una struttura museale, che non è grandissima perché la Casa Museo è alla fine un appartamento, che è capace tuttavia di sostenersi, anzi di dare un piccolo utile. Oggi siamo su un livello di circa 117-120 mila euro di incassi complessivi. Il museo si autosostiene, si automantiene senza bisogno di apporti esterni per raggiungere gli equilibri che tutti noi volevamo raggiungere. Contestualmente alla fornitura dei dati, il direttore della fondazione ha annunciato le sue dimissioni. Marsili ha ricordato che la sua direzione aveva un carattere sperimentale e che buoni risultati ottenuti dovranno servire da linea guida per la futura gestione della fondazione, nel cui statuto, ha ricordato, la figura del direttore è facoltativa. Adesso la decisione spetterà il Consiglio, ma si prospetta già la figura di Luigi Viani come sostituto di Marsili, anche se non è ancora stato deciso con quale carica.